della terra. Allora dalla Valle di Susa noi chiediamo una cosa, in modo chiaro, forte, che questi 22 miliardi di euro vengono dirottati su Taranto per bonificare, per riconvertire l'Ilva, perché non ne possiamo più di questi pescicani che ci vogliono ammazzare, vogliamo un futuro a Taranto come in Valle di Susa. È per questo che noi diciamo che Taranto è una nostra gemella, è per questo che noi ci sentiamo a casa qua questa sera. Vedete, spesso ci dicono che noi difendiamo il nostro piccolo cortile, anche qua sicuramente, il progresso deve andare avanti e voi difendete il vostro piccolo cortile, glielo dicono anche alle mamme dei fuochi, glielo dicono anche quando parliamo di no alle trivelle. Noi stasera stiamo dimostrando una cosa, che esiste un unico grande cortile che è la madre terra e noi la dobbiamo difendere questa madre terra perché è unica, è unica e dei nostri, ci dà il futuro. Quindi insieme, insieme con Taranto, Taranto libera e pensante, con la Val di Susano Savo, con le mamme dei fuoti che chiedono la bonifica, con tutti i comitati in Italia che stanno lottando per difendere la terra, insieme chiediamo che questi denari che vengono utilizzati per queste opere devastanti siano dirottati per difendere il territorio e ripristinarlo, che venga ricostruita anche l'Aquila con questi soldi, che vengano tolti i veleni dal casertano dove tanti bambini sono morti, esattamente come qua a Taranto. Noi questo premio che oggi daremo a voi l'abbiamo anche dato alle mamme dei fuochi, per fare altri gemellaggi, per cercare di far sì che queste lotte, quando si mettono insieme, quando si uniscono, diventano più forti. Ora passerei al premio. Allora dovete sapere che in Val di Susa esiste un piccolo festival resistente che si chiama il Val Susa Film Fest, è stato fondato da un partigiano, si chiama Bruno Carlo, era fratello di un altro partigiano, comandante, trucidato dalle SS. Lui a 16 anni è salito in montagna. Poi ha deciso di fare il partigiano e con lui, vent'anni dopo, ha fondato il Val Susa Film Fest. Noi portiamo la voglia di resistere qua a Taranto e lo portiamo dandovi il premio, il premio di un partigiano che si chiama Bruno Carli. Al comitato di Taranto, cittadini liberi persanti, è con il cuore che ve lo stiamo dando. Io sono stato in Val Susa appunto, come dicevo prima, e ho avuto la fortuna di vedere i presidi. e seppellire la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fior. bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un altro partigiano. bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao e seppellire il partigiano, molto bella in libertà.